In genere è una società che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi per l'efficienza energetica. Efficienza energetica si intende anche in termini di sostenibilità ambientale. Qui arriva Expotel e presentiamo in modo particolare un sistema di accumulo per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Un sistema di accumulo che è in grado di dare alla casa un'autonomia energetica anche del 100%. E' una struttura che è incorporabile anche in altri sistemi come ad esempio le nostre smart deck che sono delle pensiline con copertura fotovoltaica e sistema di accumulo integrato. Offrono una varietà di funzionalità, si possono utilizzare in contesti urbani o residenziali e portano l'energia elettrica esattamente dove poi deve essere consumata. Intorno possiamo sfruttarle per illuminare o per far funzionare impianti o per ricaricare veicoli elettrici o di altra natura.